Io comprendo anche chi ha paura, io o non ce l'ho o sono incosciente, non lo so, però io brontoro anche le persone che buttano le cartacce in terra, che non raccolgono le cacche dei cani, quindi a costo di passare da antipatica bacchettona, però è più forte di me, è natura. Quando ha visto i due rapinatori allontanarsi con il bottino ancora tra le mani, non ci ha pensato due volte, li ha inseguiti fino a quando non è riuscita a recuperare il borsello rubato e poi lo ha riconsegnato alla vittima. Protagonista della vicenda, Maria Cristina, che nella serata dello scorso 26 aprile stava percorrendo in auto via Cristoforo Colombo ad Arezzo. All'incrocio con via Curtatone però ha sentito delle urla, la richiesta di aiuto di un ristoratore che era stato aggredito da due uomini con il volto coperto e che si stavano dando alla fuga con l'incasso della serata, circa 2000 euro. Non ho ragionato, ho distinto, li ho inseguiti con la macchina finché ho potuto, poi si sono divisi e allora sono scesa dalla macchina e ho inseguito a piedi quello con la borsa urlandogli di lasciarla in terra. Lui ha provato a dirmi o la pistola o la pistola, io continuavo a urlare, lascia la borsa, lascia la borsa, lascia la borsa e alla fine a quanto pare ha funzionato perché l'ha lasciata. Alla fine il malvivente ha così abbandonato il borsello che è stato restituito alla vittima. Io ci ho provato, ero certa di non riuscirci, ero certa di smollare dopo un po', però perlomeno chi fa queste cose sa che non tutti fanno finta di niente, cioè loro devono sapere che non possono agire indisturbati, che ci sarà sempre qualcuno che gli correrà dietro e a volte andrà anche bene. È l'occasione di ribadire l'importanza dei gesti di coraggio e intraprendenza come quelli messi in atto dalla signora Maria Cristina che non ha voltato lo sguardo dall'altra parte. Queste le parole della questora di Arezzo Maria Luisa Di Lorenzo che ha ringraziato personalmente la donna. I complimenti fanno sempre piacere, quindi ci sono andata molto volentieri e mi sono presa complimenti. Quindi lo rifarebbe senza pensarti? Sì, sì, assolutamente. Se non ho accanto persone che metto in pericolo lo rifaccio di sicuro.